Ok, riprendiamo e andiamo subito a guardare con sulle parti, 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 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 9, 10. Ok, cammino. 10 10 11 11 18 14 15 15 15 15 16 16 Ok, se avete costato, dovete fare il passo a 4, perciò nella parte del nostro 4-10, perciò iniziare il passo a 6, perciò iniziare il passo a 6, perciò iniziare il passo a 6, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lilividade, il Mao Zaino, NASA, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, disrespectful. 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 3 7 6 7 7 8 no no così Una. 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 Un'altra. Una. Una. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti